L'artista semi-sconosciuto, ma direi molto originale, è il francese Henry Danty. Pochi sanno che la collezione Mazzolini vanta il maggior numero di opere, circa un centinaio, includendo oltre a queste opere su tela, disegni e naturalmente altre opere. Ebbene, Henry Danty ha due caratteristiche che ci colpiscono subito. La prima è questo, diciamo così, soggetto che può apparire solo in apparenza giocoso, perché sappiamo che i pagliacci, gli elementi del circo, hanno un risvolto tragico incredibile e questo ce l'ha insegnato proprio Chagall, quando ci spiega che la vita di tutti i giorni, gli elementi del circo, possono sostanzialmente avere lo stesso valore di un episodio della vita di Cristo. E il secondo grande aspetto, questo effetto traslucido, dove domina il colore, la pastosità, la matericità che forma i soggetti, è ottenuto utilizzando lo smalto. Quindi, anche qui, un tocco di originalità che lo fa davvero un artista eclettico, perché è un'autodidatta, e profondamente innamorato del colore.